Ciao a tutti ragazzi, io sono TheDexan e ben ritornati con Call of Duty Modern Warfare Mamma mia, io comando questo aereo super mega ober Power Potentissimo Mi gasa un casino Basta Faccio misure Ciao, io sono TheDexan Abbraccio fuoco sull'edificio Un veicolo in movimento Uno dei veicoli è entrato in attività I nemici è uscita dalla chiesa Abbraccio i nemici in avvicinamento dalla chiesa, richiediamo permesso di inganciare Andiamo un desiderio adesso soak un esaminamento dalla chiesa, rip Auchin è uscita dalla chiesa lunga Abbraccio la cupola Go, squadra potete attaccare il nemico ma lasciatemi alla schiesa L'acqua è entrato Buongiorno. Ragazzi, sempre lo stavate chiedendo sì, sto lanciando missili a caso. Dove, dove? Non li vedo. Guerre, guerre. Non li vedo. Non li vedo. Qui sono, bastardi. Vieni qua, fatti prendi. Ma dove? Sono dietro il muro. E dov'è il muro? Oh, qua il muro. Il muro. Il muro. Ah, qua, qua. Cosa, d'annazzi? Sì, sì, sì. Il muro. Ah, quelli sono i nostri. Ehm, oh. Boom, bitches. Wifi. Ok, ok, biciotto. Va bene. Aspetta. Prima pomeriggio. Non li vedo. Cioè, non li vedo. Ah, qua. Qua, qua. Tutti questi. Tutti questi. Sono morti tutti. Non se lo meriterebbero, però vabbè. Dove? Guerre, guerre. 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 Do. Non so che ho un doppio niente. Ah. Bastardi. Non mi potete scappare. Do. Centrato. Ah, ok. Ho preso. C'era scritto, preso in pieno, cioè, me l'ha tradotto come centrato. Bu. 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 Bastante. Per calma, per calma. Oh, fa fa' un bagno. Bastante. Perso? Non è vero. Ah, si va a becerla a noi. Ok. Se io potesse... Dove... Arrebbero... E gli amici ho... Io sparerassi... No, questi sono nostri. No, lasciarli scappare. Pericolo il movimento. Ce povinte la giu. Aha, Inua, si egicitat su un pastig. E. 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 Wi-Fi, va a fare un bagno. Ok, ho capito. Dove? Non lo vedo. Aspetta. No. 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 Pronto al fuoco. Pronto al fuoco. Pronto al fuoco. Siamo quasi nell'area del terragio presso una discarica. Dove lasceremo il vento. Ha ricevuto un errore 6. Sono un errore, ragazzi. Stiamo finendo. ...per raggiungere la chiavita l'area di alterraggio. Non ingaggiare l'indicato indicato dal senale l'atteggiante. ...perto al fuoco.